Salve amici del centro meteo italiano. Ferragosto con l'alta pressione e qualche temporale sulle Alpi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 15 agosto. C'è l'imprevalenza soleggiati al mattino, da segnalare qualche innocuo addensamento sulle coste tireniche del centro. Al pomeriggio attesi i rovesci e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata residui piovaschi tra Alto Adige e Lombardia, assenza prevalente di nuvolosità altrove. Temperature minime in lieve calo al nord, stabili in rialzo al centro-sud, massime in rialzo al sud, stazionarie altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.